Grazie a tutti per essere qui, per essere venuti. Vi dico che siamo anche in diretta streaming e ringrazio, prima di dimenticare, l'ufficio comunicazione che ha organizzato questo evento in collaborazione con Focus e con la CA Foscarina e devo anche ricordare che Dario Bressanini non è qui per impegni accademici come invece era indicato sul programma cartaceo. Questo è il primo evento della Research Communication Week, quindi la inauguriamo oggi. Ne approfitto anche per invitarvi tutti domani a CA Foscari per Veneto Night. Noi abbiamo preparato un altro evento che si chiama Sulla stessa barca a bordo con la ricerca. Ci sarà un vaporetto ormeggiato a CA Foscari e sul vaporetto terremo una serie di interviste con ricercatori di CA Foscari. Le tematiche saranno varie e quindi spero che almeno qualcuna di queste interviste potrà stimolare il vostro interesse. Come vi dicevo, siamo in diretta streaming e alla fine raccoglieremo domande dal pubblico e le domande, quindi invito chi ci segue in streaming a commentare il video perché le domande potranno anche essere lette dal web. Allora, io inizierei presentandomi. Sono Fabiana Zollo, ricercatrice di CA Foscari, sono anche fellow del Center for the Humanities and Social Change diretto da Shol Bassi e mi occupo di diffusione dell'informazione e delle dinamiche di questa diffusione sui social media, con un focus particolare sulla disinformazione. Sono anche responsabile scientifico qui a Venezia di un progetto sulla comunicazione della scienza. Quindi ci occupiamo della comunicazione della scienza anche sui social media e quindi questo è un panel che mi sta particolarmente a cuore perché YouTube è una delle piattaforme che stiamo analizzando. Vi presento brevemente i nostri ospiti. Abbiamo oggi con noi Roberta Villa, che è una giornalista pubblicista laureata in medicina, ha collaborato per più di vent'anni con le pagine di salute del Corriere della Sera e con molte altre testate, cartasce e online. Negli ultimi anni ha approfondito il tema delle vaccinazioni, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della comunicazione, anche in risposta a bufale e fake news. Sul tema della comunicazione della scienza è impegnata qui a Ca' Foscari nel progetto Quest e ha scritto Vaccini, il diritto di non avere paura, la cui nuova edizione è stata appena ripubblicata con il pensiero scientifico. editore. Ciao, sono Roberta Villa, sono una giornalista, ma sono anche laureata in medicina. Adesso continuo a guardare fuori dalla finestra. Ma gli episodi di questi giorni mi convincono a fare questo video un po' in fretta per chiarire alcuni punti che continuano a essere oggetto di disinformazione, anche da parte di chi disinformazione non dovrebbe farla. Sono delle riflessioni su cui vi invito anche a commentare, su cui sono aperta a ogni forma di discussione. Oggi invece che con la tazza avrei dovuto presentarmi probabilmente con un bel calice di vino rosso, una fluta di prosecco che amo molto. Spero che questa idea vi piaccia, con me sta divertendo molto me fare questi video e alla prossimo video. Ciao! No, lo rifaccio. Ok, poi c'è con noi Adrian Fartade, 32 anni, laureato in storia e filosofia presso l'Università di Siena con un percorso in scienze ed astronomia. Si occupa di divulgazione scientifica a partire dal suo canale YouTube, che conta oltre 150.000 iscritti. La sua missione è fare appassionare la conoscenza anche più resti, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. All'attivo due libri pubblicati con Rizzoli, A piedi nudi su Marte, Viaggio nel sistema solare interno, uscito nel 2018, e su Nettuno Piovono Diamanti, uscito nel marzo del 2019. E abbiamo un breve video anche per Adrian. Eccoci. Nella Via Lattea c'è la scena di un crimine. Vediamo delle cicatrici, un po' di morte e distruzione nei video anche quando non ve lo aspettate. Ah! E poi parli di morte e distruzione, di cosa mangiavi te, sangue, eccetera, cose, e poi fai, ah, minaccioso alla fine. Sotto gli contenti. Bernardo è un mammut. Eccoci qui, lupi manari, nella notte, sotto alla luna. La diversità animale è importante per poter permetterci di avere un ecosistema in cui noi stessi possiamo sopravvivere. Poi ho perso il filo, come sempre. E c'è un perro grosso come una casa. Enorme! Molto più lontano, molto intenso, molto più grande, molto impressionante, molto meno, molto, molto meno. Wow! Dopo vi racconto. Grazie. E infine c'è qui Alberto Tossofei, discendente da un'antica famiglia di vetrai di Murano, appassionato di storie e di misteri, oltre ad esercitare la professione di scrittore, si cimenta nell'attività di divulgatore culturale. È un giornalista professionista, pubblicato una ventina di libri, incentrati su temi culturali e di ricerca di usi e costumi di Venezia e del territorio lagunare, e non solo. Infatti, ultimamente ha ampliato il storaggio d'azione, iniziando a pubblicare opere anche su altre città d'Italia, in particolare su Roma. Oltre alla scrittura, collabora spesso con tantissime trasmissioni televisive, realizzando servizi su Venezia, come Ulisse, Una notte a Venezia con Alberto Angela e molte altre. Vediamo anche il suo video. Ma come diavolo faceva una povera ragazza del Settecento a dire a tutti che quel giorno era pronta a spaccare il mondo? È semplice, si applicava un neofinto sulla fronte. La moda della zeppa va e viene, ma ricordate la prossima volta che ne vedrete una in una vetrina, che non sono nate negli anni Settanta, ma a Venezia, nel corso del Rinascimento. I ponti presero addirittura il nome di alcune leggende, come il ponte dell'Ansoe, o il ponte di Donna Onesta, o il ponte dei Maraveje. Calle Varisco non può essere percorsa da un assassino. Qualora ciò dovesse accadere, i muri si restringerebbero fino a stritolarlo. Strana città è Venezia. Si tarocca una foto, non per mettere un cowboy con gli indiani in una gondola, ma per ricostruire il campanile retrostante. Grazie. Ok, quindi, vi abbiamo mostrato dei brevissimi video introduttivi, ma io farei raccontare a loro, che sono i protagonisti, come mai sono su YouTube, cosa li ha spinti a cominciare questa attività su questa nuova piattaforma. Partiamo da te, Roberta. Ho sbagliato pulsante. Buonasera a tutti. Cosa mi ha spinto? Chi mi ha spinto? Io ho avuto Dario Bressanini, qualcuno di voi lo conoscerà, il nostro amichevole chimico di quartiere, che è stato un po' la pripista di molti noi divulgatori sui social, che continuava a tormentarmi, veramente, a insistere, dicendo che YouTube era un terreno in preda, diciamo, agli antivaccinisti, che c'era tantissima disinformazione in campo medico e che quindi bisognava scendere in campo. Io ero un po' restia per varie ragioni, prima di tutto perché sono una assolutamente antitecnologica e mi trovavo in difficoltà. Poi avevo i miei figli che mi dicevano, no, ma se fai una cosa la devi far bene, non come fai tu le cose, eccetera, e quindi recalcitravo un po'. Poi però è uscita la legge Lorenzin, si è scatenato il finimondo sulla legge Lorenzin che rendeva obbligatorie le vaccinazioni, insomma, sapete, la legge sull'obbligo vaccinale. E quindi un giorno ero in vacanza, in campagna, ho detto, vabbè, però, chiariamo le cose. E col telefonino, mi sono messa il telefonino e ho spiegato, come se avessi spiegato a una mia amica, alle tante che mi chiedevano cosa succedeva adesso per mandare i bambini a scuola, cosa succedeva con questa legge e che cosa pensavo di questa legge. Questo video l'ho messo su Facebook, i miei amici mi hanno detto, ah, bellissimo, bellissimo, e lì mi hanno un po' spinto ad aprire questo canale. E poi da lì ho cominciato a fare altri video, sempre relative ai vaccini e poi anche su altri argomenti. E da quanto tempo hai aperto il canale adesso? Quanti iscritti hai? Dunque, il canale è la legge del 2017, quindi nell'agosto 2017, e sono circa 12.000. Pochi, pochi. Pochissimi. Io ho iniziato a fare video online molto prima, ho iniziato in seconda superiore, oggi qualcuno che c'era al corso di questa mattina l'avevo raccontato, quando Alitis facevo chimica mi divertivo a fare video di esperimenti che facevamo, quindi interpretavo questo personaggio strano di un chimico pazzo, scienziato pazzo, come li vedevo nei film, e ho iniziato a caricare video su una piattaforma che era Bastard di dentro. Quello è dei diari, come sono invecchiato. Erano video un po' fatti così, però era la prima volta che ho avuto l'assaggio di una piattaforma dove avevo un'interazione diretta con il pubblico, quindi per me l'idea di caricare video che potevano essere visti da persone in giro per l'Italia, potevo fare sketch vari, e divertirmi a fare un po' di montaggio, era cresciuta man mano che comparivano nuovi social, per cui quando è comparso YouTube ero già alla caccia di un posto migliore di quelle che c'erano a disposizione, e il primo canale l'ho aperto su YouTube nel 2006, in inglese, e internet all'epoca era ancora più di oggi un west selvaggio, per cui era una competizione continua su riuscire a sopravvivere e fare video in un ambiente dove nessuno sapeva come doveva fare le video, non c'era una regola precisa, ora almeno ci sono i format, ci sono dei video che puoi vedere e dire ok voglio farlo come lui, no, su YouTube quando ho iniziato io nel 2006 tutti quanti caricavano video perché era faticoso scrivere commenti lunghi, per cui la maggior parte dei video erano delle stanze, delle persone che discutevano animatamente delle cose e quindi si erano messi a fare video perché spiegarlo a parole troppo lunghe a scrivere. Da lì molti canali sono cresciuti, incluso io, e ho cambiato canale. Poi quello in inglese mi occupavo di la mia prima grande cotta di storia della scienza che era la storia dell'evoluzione naturale, e è finito che mi sono messo a litigare con un gruppo di creazionisti nei Stati Uniti, in un museo creazionista che hanno aperto con un predicatore che ha fatto il mio nome associandolo a Satana, perché facendo il conto di quanti iscritti avevo ero molto felice di questa cosa per me, ero a casa a mangiare popcorn, a guardare un predicatore americano, a parlare male del mio canale dove parlavo di storia e della scienza. Alla fine è stato chiuso, ho aperto un altro stato chiuso perché mi hanno segnato in centinaia dei suoi credenti. Quando ho aperto il secondo l'ho aperto in italiano perché il pubblico italiano era cresciuto e era nel 2012. Nel 2012 ancora il web era comunque strano, pieno di video di ogni sorta. Ora l'offerta è aumentata tanto, però siamo ancora molto indietro in Italia rispetto a comunità di YouTube, fuori per esempio in Inghilterra, Francia, dove comunque questo ha avuto molto più riscontro con le istituzioni. Qui solo recentemente musei, università, istituzioni hanno detto ma questa cosa nuova di YouTube? E siamo nel 2019, YouTube esiste nel 2005, quindi ci arriviamo con calma, ci arriviamo anche qui. E quindi ora il canale ha 230.000 iscritti, e arrivo a circa 2 milioni di visualizzazioni ogni mese, totale. Per cui sono molto soddisfatto perché posso riuscire a farlo di lavoro, quindi riesco alla mattina... avete presente la sensazione cui mangi e sei felice? Però l'altra parte che mi rende felice di questo momento storico è che c'è molto feedback nelle persone che quindi vedono il video e mi fanno sapere poi dopo come va, come si sentono e quindi non è più come prima che non potevo incontrarli, ora facendolo di lavoro ho l'opportunità di incontrare poi i ragazzi ma anche tutte le persone che... e quindi ho più strumenti per renderli ancora migliori. Mi sono delungato troppo, scusate. No, no, dopo approfondiamo che si aspetti. Alberto. Allora, io mi proponevo e mi sono proposto già da prima che esistesse YouTube di divulgare il più possibile Venezia, e quindi di appassionare le persone alla storia della città, raccontandola in maniera un po', come dire, obliqua, o con uno sguardo disincantato, divertente, volto all'aneddotica, alla leggenda, perché poi uno dei miei interessi principali è quello della riscoperta della tradizione orale, e quindi di quelle storie condivise che arrivano dal passato, ma soprattutto dalla consuetudine del racconto. Ed è ciò che ho fatto con i miei libri. Da un certo momento in poi mi sono reso conto che per quanto io abbia tentato poi di introdurre, io lavoro spesso con la tecnologia laddove posso, nel senso che la importo nelle mie serate, l'ho portata dentro i libri, perché un paio dei miei libri erano concepiti alla rovescia. Cioè i libri avevano e hanno dei codici QR attraverso i quali tu accedi a dei filmati che non sono criptati, sono su un'altra piattaforma, su Vimeo, però tu hai accesso solo in questo modo. Poi però mi sono reso conto che anche io se volevo raggiungere più persone e se volevo comunicare un po' quest'idea di Venezia diversa dagli stereotipi e aiutare una maggiore conoscenza della città, dovevo velocitare questa comunicazione e quindi fare dei video molto brevi per quanto mi riguarda, quindi aspetti curiosi, minimali, che però raccontino molto anche della storia della città, ma in 60, 70, 80 secondi, e metterli su una piattaforma. Inizialmente ho scelto YouTube perché mi sembrava la scelta migliore, perché piattaforma pubblica, condivisa e quant'altro. In realtà io rispetto ai tre sono il calimero perché su YouTube ho pochissimi follower, e ho virato verso altri social e lì, devo dire la verità, sono esploso, nel senso che i video hanno diverse decine di migliaia di visualizzazioni, la pagina, che non ha il mio nome, che si chiama Venezia in un minuto, devo dire che funziona bene e sono soddisfatto di questa scelta che reputo ancora una scelta adeguata. Non salveremo Venezia, ma la comunicheremo meglio che possiamo ai tanti milioni di persone che la visitano ogni anno. I video, per esempio, c'è anche un'ulteriore fatica di tradurli e quindi di sottotitolarli in quattro lingue diverse. Questo è ottimo perché appunto permette di... Quindi, insomma, pare di capire che questo tipo di comunicazione funzioni in base anche a pronto al grosso seguito che i nostri relatori hanno, anche nel caso di Alberto, in cui comunque YouTube diventa la piattaforma che pubblicizza il contenuto. E quindi la domanda che vorrei farvi è anche riagganciando... 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 Ok, mi riaggancio. A quanto detto da Adrian è come valutate la vostra attività su YouTube? Questo è un tema che mi sta a cuore perché poi è anche qualcosa che stiamo cercando di studiare da un punto di vista di ricerca accademica. Ma voi come valutate? Voi ovviamente avete anche, per esempio, tutti voi avete scritto dei libri, quindi in che termini voi valutate la vostra attività di YouTuber? Per me è stata... La scoperta è stata... Io ero presente su Facebook da molto tempo, avevo una frequentazione abituale di Facebook. YouTube mi ha aperto tutto a un tipo di pubblico completamente diverso, molto più giovane, e soprattutto l'interazione è stata decisamente più soddisfacente, più forte. Diciamo che mentre su Facebook avevo più un rapporto con persone, diciamo, con amici, quindi magari un confronto più o meno alla pari, lì ho riconosciuto che le persone mi ascoltavano, che interessava, che cercavano delle buone informazioni. Quello che appunto aveva detto Dario all'inizio era vero. Molte persone erano disorientate e cercavano veramente una risposta a tante domande, anche appunto sul tema dei vaccini, su cui era stata fatta tanta comunicazione, ma anche molto contraddittoria. C'erano molte notizie false che circolavano. Ho colto nelle persone una notevole soddisfazione nel darmi fiducia, ecco, e quindi è stata una di grande soddisfazione da questo punto di vista. Sì, ci sono un sacco di fattori che vanno all'interno della valutazione che dipendono dalle statistiche, ma quella è la parte più noiosa, quindi ve la trascurro. Però se vi piacciono le statistiche... Giusto per annoiarmi un po'. Per esempio posso vedere nel pubblico quale percentuale è maschile, quale è femminile, quale è l'età, a che ora guardano... Ora sembra uno stock. Però è quello che ti dà un'idea di che tipo di pubblico ti sta guardando, quando e come interagisce. Quindi immaginate, voi che lavorate sui giornali, quelli in carta, roba di un tempo, immaginate se poteste sapere di ogni singolo lettore a che ora ha letto l'articolo, quando si è fermato durante l'articolo, quale sono le interazioni che ha avuto, quanto l'ha condiviso, a chi l'ha fatto vedere, che fascia di età, cioè, quanto riuscireste con queste informazioni poi ad avere un'idea di quanto effettivamente il vostro pezzo ha funzionato o no, o che tipo di impatto ha avuto. Quello è il lusso di un canale su YouTube e di quante permeanti poi dopo la capacità dei social e di arrivare poi dopo a sapere informazioni. E dal mio punto di vista questo mi dà una ricchezza enorme per personalizzare i target, ma anche cercare di vedere quali mancano. Quindi, di solito, se vedo quali funzionano, la prima cosa che mi viene in mente è cos'è che manca a cui non sto arrivando. Perché fare divulgazione è molto bello quando hai un sacco di persone che sono tanto contente di ascoltarti parlare di scienza e fanno il tifo per te, ed è tutto fantastico, però alla fine è come predicare convertiti. Sono tutti d'accordo e viva la scienza, però poi dopo fuori c'è un sacco di gente che non ha l'idea di quale sia la differenza tra un virus e un microbo e quindi prende antibiotici quando influenza. Quindi abbiamo bisogno poi dopo di sapere quali sono le persone a cui non arriva la comunicazione per cercare di andare a prendere la schiaffi. Quindi, in senso metaforico. Quindi bisogna andare a intervenire dove mancano. Questo è uno dei impatti. L'altro che è meno statistico è vedere l'impatto dal vivo. Come dicevo prima, quando vado per esempio nei comics o altri festival che non c'entrano con la scienza e quindi cerco di arrivare al pubblico generico che mi segue, ogni volta che mi incontrano mi raccontano aneddoti di come hanno scoperto il canale ma più che altro che differenza ha fatto nella propria vita. È una delle cose che mi muove sempre quando mi dicono che hanno ripreso a studiare, che magari avevano lasciato la scuola sono ritornati a studiare che li ho convinti ad andare a fare una facoltà che li faceva paura come ingegneria aerospaziale o astronomia. Quindi è bello perché ci conto un tanto che qualcuno di loro diventi un astronauta e dica il mio nome sulla Luna. Quello è il mio obiettivo finale. Grazie per l'adrea ne sarò fin di vita. Alla fine Galileo è stato menzionato sulla Luna durante l'Apolo XV quando hanno fatto un esperimento con un martello e una piuma e l'hanno lasciati cadere sulla Luna senza atmosfera ed entrambi sono caduti perfettamente. Galileo era un po' tardi per lui ma insomma Venezia sicuramente apprezzata. C'è l'Italia in generale tutti i posti dove è andato. Venezia lo dico perché sono qui quindi c'è il padre. L'ho detto anche a Padova quindi sappiate. Per cui è una bella interazione e secondo me è uno dei modi in cui è un vantaggio grosso per l'informazione perché fare il giornalismo è una cosa incredibilmente nobile e molto difficile specialmente oggi e credo che collaborare tra varie realtà in cui si può avere anche un'idea di qual è l'impatto del pubblico e come reagiscono anche dove hanno smesso di leggere per dire banalmente io quando vedo i video vedo il calo del pubblico e quale fasce di età ha smesso di vedere il video riesco a personalizzarli in modo che si ha che aumenti l'interazione questo tipo di dati potrebbe dare una mano grossa so che online è terribile perché il modo in cui noi abbiamo vissuto il web è stato è tutto gratis è tutto gratis e poi dopo qualcuno deve lavorare quindi viene pagato la pubblicità e questo mette una pressione diversa commerciale sui giornali però possiamo secondo me fare delle cose diverse perché già noi su YouTube ci stiamo spostando lontano da quello smettendo di monetizzare i video nel modo classico con le pubblicità collaborando direttamente con le persone con piattaforme come Patreon e quindi io al momento ho circa 600 Patreon persone che su una piattaforma che si chiama così mi fanno da mecenati quindi mi danno una piccola somma come abbonamento e quindi io posso fare divulgazione senza dover monetizzare facendolo però direttamente per loro e quindi l'autenticità di questa relazione con il pubblico ha fatto sì che io possa funzionare in questo modo tranquillamente e credo che possa essere un modo anche per giornali di uscire dalla pressione commerciale a cui sono sottoposti in questi ultimi vent'anni non lo so io sono nessuno questo della monetizzazione è un punto cruciale Alberto parto da questo punto allora vai nel senso che io ho iniziato nel 2015 sono entrato su YouTube nel 2015 ho realizzato questa prima stagione così come le altre due successive siamo alla terza stagione con la collaborazione di Vela che è l'agenzia del comune quella più o meno ogni comprensiva che realizza dal carnevale alla festa della senza la regata storica e così via che quindi mi ha mi ha finanziato questo lavoro che è un lavoro appunto di divulgazione sulla città che non è scientifico ben inteso ma ha un valore storico e che tenta di comunicare un'immagine diversa di Venezia rispetto a quella a quella corrente o no a quella a cui siamo tutto sommato abituati anche in termini di informazione anche internazionale ad ascoltare rispetto a Roberta e ad Adrian la mia esperienza è in qualche modo quasi rovescia nel senso che da un lato io tento di sintetizzare mentre ciò di cui parlano loro ha bisogno anche di tempo e devo dire onestamente senza piageria sono molto bravi a tenere fissa l'attenzione io ho da un lato la necessità di accorciare i tempi della comunicazione perché poi su Venezia si trova di tutto ma è inutile non è mai inutile ma diciamo che aggiungere un bellissimo documentario che tu puoi mettere gratuitamente sul web sulla città forse aggiunge poco invece immettere tutta una serie di brevi filmati che raccontino che tutti insieme poi diano un'idea complessiva ma che uno alla volta raccontino un aspetto di vita un aspetto di storia un aspetto sociale un aspetto di Venezia tante tessere di mosaico in qualche modo aiuta lo spettatore chiamiamolo così lo youtuber spettatore da casa a arricchirsi un po' alla volta con la famosa colonna di destra perché poi non ne vede un altro non ne vede un altro sono passati solo due minuti da un lato e dall'altro la tipologia della mia comunicazione come se un po' intravisto è di carattere un po' un po' diverso nel senso che è costruita in modo un po' giornalistico quella è la mia formazione è stato anche giornalista televisivo non è la mia vita professionale e quindi ho un operatore di ripresa c'è un montaggio ci sono le immagini di copertura è come se fosse un lungo servizio giornalistico sul serio per raccontare però una storia mi capita e mi è capitato di utilizzare il cellulare e lo faccio ed ecco per esempio questo può essere interessante sul profilo giornalistico sono sbarcato sull'isola di Poveglia sulla quale si dice la qualsiasi cosa e ho girato un video col cellulare che con cui ho sfatato questo falso mito della presenza di fantasmi spettri morti di peste che non ci sono ci sono stati sono venti in tutta la storia venti proprio di numero non lo sappiamo anche sono dodici greci e otto spagnoli manco veneziani poveracci sul serio il ghetto scusatemi il lazzaretto novissimo ecco qui per fare questa cosa ho girato in giro per l'isola questa cosa devo dire anche inaspettatamente ma molto piacevolmente è esplosa nel senso che poi appunto dicevo ho fatto anche il lavoro contrario perché inizio su youtube e poi come accennavo prima mi trasferisco su altre piattaforme e devo essere onesto l'ho messo su facebook è stata sopra i 100.000 insomma in due giorni ecco però magari poveria tira più di altro ecco e quindi a livello proprio di impatto tu vedi che poi questo ti aiuta anche per esempio a per esempio veicolare meglio i contenuti dei libri sì e no sì e no nel senso che io sono già conosciuto come autore in qualche modo e questa questa attività parallela è è qualcosa che ho voluto fare fortissimamente che non posso dire che mi garantisca un reddito nel senso che insomma parliamo neanche un rimborso spese è a metà strada no cioè qualcosa mi viene dato quest'anno per esempio c'è stato l'interessamento e l'intervento dell'associazione Piazza San Marco che non sono solo i commercianti è tutta una serie di persone che tendono a lavorare a organizzare diversi diverse iniziative e diversi eventi per la riqualificazione di saper dare proprio anche un'immagine diversa della piazza di ciò che è stata e così via e quindi per esempio in questa terza stagione ho girato molto a Piazza San Marco ho fatto un lavoro sul Fiorian e sul caffè in generale a Venezia sulla storia del caffè ho fatto un lavoro sulla torre dell'orologio e sui i remagi che ci sono dentro cioè ho fatto insomma cose che magari uno va beh va entra su wiki le trova lo stesso più o meno giuste no e quindi se vuole si informa altrimenti ecco il grande vantaggio che non non posso raggiungere quei libri è di far vedere i luoghi e le cose che è il motivo per cui avevi inserito i codici esatto questo è sì questo è il motivo principale cioè ho Venezia davanti e posso far vedere Venezia a chiunque nel mondo e questa cosa è importantissima ed è insomma il motivo per cui poi mi sono inventato youtuber ecco sì tra l'altro quello che dici mi permette anche di agganciarmi alla prossima domanda che è questa penso un po' l'abbiate notato anche dai video introduttivi ognuno di loro ha uno stile suo e anche diverso sono diversi gli uni dagli altri e quello di Alberto è una modalità più televisiva lo infatti ha qualcuno che lo registra e quindi fa molto fa molto tv quella di Roberta è invece una modalità più amatoriale più intima proprio di chiacchierata mentre lei beve il caffè quella di Adrian è già realizzata in maniera più professionale ma resta comunque estremamente informale molto giocosa quindi la mia domanda è se questa è una scelta ben precisa da parte vostra che quindi è dettata dal tipo di pubblico che volete raggiungere da cosa state cercando di comunicare o se anche semplicemente deriva da come ognuno di voi è fatto e quindi parto sempre io? Allora per me vale entrambe le cose nel senso che obiettivamente è in parte una necessità nel senso che per me invece non è un lavoro questo è un'attività che io cerco di ritagliare in mezzo a tante cose e questa è anche la ragione dell'irregolarità della pubblicazione dei miei video se dovessi fare una cosa professionale so che mi scoraggerai per dire a Natale i miei figli mi hanno regalato le luci che sono considerate una cosa minima indispensabile io non ho avuto ancora il tempo di montarle una volta perché se devo mettermi lì montare le luci smontarle non lo faccio non lo faccio e quindi c'è una questione obiettiva di necessità però poi alla fine a volte mi scoraggia perché vedo gli altri fatti tutti così bene e dico ma no ma io con che faccio invece poi mi rendo conto da come mi rispondono le persone che in realtà proprio questa artigianalità anche questi errori perché a volte l'inquadratura non è giusta le luci sono sbagliate io sono struccata appena sveglia quello che volete crea ancora di più quella familiarità che nell'ambito dei miei temi è molto importante perché il tema dei vaccini si gioca tutto sulla fiducia e direi in generale il rapporto con la medicina oggi è in crisi proprio per un crollo della fiducia tra il mondo della medicina e il pubblico e quindi il fatto di essere davvero l'incucina a bere il caffè insieme a me come si sentono le persone favorisce molto questo quindi alla fine non voglio dire che è una cosa voluta perché sarei non sono capace di raccontare storie è per necessità però alla fine è finalizzata è funzionale a quello che io devo trasmettere voglio trasmettere sì anche nel mio caso è abbastanza voluto ora ho sperimentato sempre un sacco ho fatto decine di forma diversi il prossimo che arriva a novembre spoiler quindi non lo dite nessuno e questo rimarrà su youtube quindi beh tanto comunque nessuno lo deve menzionare mi raccomando ho preso uno scheletro uno scheletro grande che si può mettere varie posizioni e con lui approfondiremo temi riguardo a gente morta in vari modi e anche lati tipo da piccoli brividi della scienza la parte bella divertente ludica se vuoi di youtube che permette di dare sfogo a un lato più creativo dei umani non è che youtube è magico per qualche ragione sono gli umani che sono meravigliosi è quello che cambia i giornali hanno prodotto se guardate nella storia una marea di format meravigliosi sono stati sempre tra il 7 e il 800 pieni di forme di arte che non avevano alcun spazio i fumetti sono iniziati grazie a voi grazie perché mi avete migliorato la vita grazie a questa invenzione quindi alla fine i nuovi media che compaiono offrono un nuovo spazio per sperimentare quindi le persone poi dopo inventano di spontanea volontà cose nuove come è successo poi con il cinema come è successo con la radio come è successo con la tv ho avuto l'opportunità di conoscere da poco cenare insieme con Piero Angela questa cosa ancora mi fa venire Piero Doc ma comunque lui mi raccontava che quando ha iniziato ha fatto molta fatica perché non riusciva a convincere la RAI a fargli fare le cose la RAI continuava a dirgli che SuperQuark finirà da lì a poco e quando ha fatto quella trasmissione vi ricordate in Mongolfiera con il computer grafica quella era una cosa incredibilmente panca all'epoca ha avuto un impatto enorme per cui io cerco non tanto di fare qualcosa apposta di un singolo format ma sperimentare e cercare nuovi modi in cui posso sfruttare al massimo youtube o altri social per dare sfogo a creatività e in generale coinvolgere la scienza nelle cose che faccio perché il problema che ho avuto crescendo è che io mi sono appassionato all'astronomia grazie a Jack London che neanche parla di astronomia perché parlava di paesaggi incredibili dell'Alaska posti strani con alla fine creavo un'avventura con un pezzo di un albero un lupo un marinaio sfigato e poco più neve tanta neve e leggevo questi romanzi e traspariva tutto il senso di avventura meraviglia di questi posti nonostante fossero così piccoli e quando poi dopo andavo a vedere la storia della scienza il modo in cui veniva raccontato la luna che era piena di posti che nessuno aveva mai visto che potevano ospitare milioni di storie non c'era niente non c'era quasi niente anche la fantascienza più ambiziosa era comunque ridotta a metafore navicele spaziali quindi navi quindi marinai e quindi era frustrante perché di cose che per me erano incredibilmente divertenti poi chi faceva divulgazione ne parlava ne erano noiosa e quindi mi ero ripromesso di cercare di fare qualcosa di diverso se ci pensate quando ascoltate musica non c'è nessun motivo per cui dovete conoscere per forza la teoria della composizione musicale teoria della musica sapere leggere le note per godervi un brano mentre per la scienza appena io inizio a far vedere i video la prima cosa che il pubblico mi dice io con queste cose a scuola non sono mai stato bravo ma chi se ne faccia nel senso non è che io non sono mai stato bravo con le note a musica quindi non non ascolto musica quindi cerco di giocare con la scienza perché c'è stato il tabù grosso che questo sminuisce l'importanza della scienza invece secondo me la nobilità verso qualcosa che già facciamo di default da sempre cioè comunicare noi continuiamo a pensare di reinventare l'acqua calda tutte le volte ma alla fine quello che facciamo ora di comunicare la scienza tutti e tre in modi diversi è quello che facevano i bardi nel medioevo quindi secondo me la cosa più vicina a quello che facciamo noi è quello che fanno i bardi perché i bardi prendevano le storie vere e per raccontarle alla gente così sapeva che stava succedendo in giro le mettevano sotto forma di musica perché erano più facili da raccontare da ricordare e avevano impatto emotivo e quindi rimanevano nella mente delle persone quindi noi fondamentalmente facciamo quello abbiamo l'importanza delle notizie che devono sapere il pubblico e noi come umani quindi tutti quanti coinvolti cerchiamo disperatamente generazione dopo generazione in che modo possiamo comunicare al meglio perché siamo delle schiappe a sopravvivere e se non riusciamo a sopravvivere tra di noi comunicando che è la nostra unica skill che ci ha sempre contato l'istinto nel mondo animale quindi lavorare in gruppo è finita è tutto finito e quindi avendo problemi come il cambiante climatico se non diventiamo bravi a comunicare tra di noi e raccontarci storie addio e grazie per tutto il pesce Alberto o a nuotare meglio questo era il riferimento a Guida Galattica per autostradistica io nel senso che ho iniziato facendo quello che sapevo fare io come vi dicevo ho lavorato tanti anni in televisione e quindi ho pensato che la maniera migliore per riuscire a comunicare fosse quella appunto di stare nei luoghi facendoli vedere e raccontandoli prima vi accennavo al discorso dei libri il paradosso è che per esempio uno dei miei primi video più efficaci non è su Venezia ma è su Roma perché scrivo questo libro su Roma e devo parlare della prospettiva creata da Borromini all'interno di Palazzo Spada e all'interno di questo cortile c'è questa galleria bellissima che sembra sembra lunga 40 metri che è una statua gigantesca alla fine di questo giardino e che in realtà è solamente stretta allargata insomma è tutto un gioco prospettico per cui sono 8 metri che sembrano 40 la statua che in fondo è alta 50 centimetri ma tu non te ne accorgi finché qualcuno non entra in questa galleria che è chiusa nel senso che c'è una catena non è che si può andare e venire quindi ho fatto tutto ho fatto la domanda proprio al ministero insomma ho ottenuto e ho girato questo video all'interno della galleria Borrominiana spiegando nel funzionamento e io l'ho descritta anche nel libro ho spiegato che è un effetto ottico però l'idea di essere lì e farla vedere è proprio un'altra cosa e non solo la fai vedere ai tuoi amici non so che sono lì con te la fai vedere ai tuoi amici che ti guardano da casa in qualsiasi momento in qualsiasi luogo si trovino in tal senso ecco ho unito ciò che sono a ciò che mi piaceva fare e l'ho fatto come so fare poi anche io ho un po' aggiustato il tiro i primi la prima stagione di Venezia in un minuto per quanto bella l'amo molto però ha dei titoli di testa per esempio abbiamo voluto inserire una specie di sigletta che dura quattro secondi non è che però già appesantisce e quindi poi adesso non esiste più inizia il video c'è un titolo e si procede perché anche io imparo momento per momento ecco però direi che non è non dico che non è stata una scelta ma era l'unica cosa che potessi fare ecco così in questo modo perché sono così e perché la condizione insomma è in qualche modo l'oggetto di cui parlo che in questo caso l'intera Venezia mi impongono certe strade dal mio punto di vista insomma a prescindere dal fatto che può essere narrata da chiunque in qualsiasi modo che non è il mio no vabbè certo però effettivamente i vostri contenuti in questo si differenziano loro cercano di trasmettere delle conoscenze tu anche però mostrando un luogo che altrimenti seduto alla scrivania di casa risulterebbe un po' ok adesso io vorrei approfittare di quest'ultima parte per approfondire un po' con ognuno di voi alcuni aspetti legati proprio alla tematica che voi affrontate partirei da Roberta che quindi come sapete si occupa principalmente di si è occupata principalmente negli ultimi anni di vaccini la tematica dei vaccini è una tematica estremamente controversa che genera una fortissima polarizzazione tra gli utenti nel senso di si assiste a una vera e propria divisione in gruppi in tribù ognuno con la propria identità e sappiamo bene io purtroppo lo so che questi gruppi difficilmente comunicano tra di loro che quando cerchiamo di far cambiare idea alle persone questo sembra non funzionare proprio benissimo e quindi la mia domanda la prima domanda è come come Roberta tu stai affrontando queste dinamiche di polarizzazione qual è l'approccio che secondo te sembra funzionare appunto quando parliamo di poi oltre ai vaccini dopo tu hai parlato hai trattato anche temi più generali relativi alla medicina però partirei da lì allora io ho cercato anche nei contenuti oltre che nei modi di mantenere un clima colloquiale cioè di poter mantenere aperto un canale di dialogo anche con chi non condivideva quello che io dicevo o era decisamente contrario questo è andato un po' controcorrente rispetto alla comunicazione che c'è stata sui vaccini negli ultimi anni in Italia che è stata una comunicazione abbastanza aggressiva molto stigmatizzante e colpevolizzante nei confronti delle persone che non solo erano radicalmente contrarie ma spesso anche nei confronti di chiunque sollevava un dubbio faceva una domanda subito veniva bollato come antivax e quindi reietto io invece il titolo del mio libro che è il diritto di non avere paura ma il fatto che io abbia voluto mettere quel non tra parentesi vuol dire che secondo me abbiamo tutti diritto di avere paura tutti condividiamo la possibilità di fare un sacco di errori nelle nostre scelte in tutte le nostre scelte di vita e anche nelle scelte di salute quindi quello che dobbiamo fare è cercare di aiutarci a capire dove sono i meccanismi mentali che ci fanno fare certe scelte ed evitarli io non penso che sia solo un problema di conoscenza cioè che basta prendere le persone e informarle su che cos'è un vaccino cosa fa eccetera perché penso che la nostra ostilità nei confronti dei vaccini derivi da tutta una serie di bias cognitivi di questioni emotive di paure innate a volte anche giustificate dall'evoluzione che non possono essere facilmente scalfite semplicemente perché questo lo dico io e basta è così penso che mettersi in cattura in queste cose sia assolutamente controproducente soprattutto perché la ricerca ci dice che la gran parte insomma delle persone ostili nei confronti dei vaccini non sono le persone più ignoranti ma anzi quelle più colte cioè quelle che hanno più possibilità di crearsi una propria idea di informarsi e poi mancando di tutto un quadro generale rischiano di fare degli errori quindi io quello che ho cercato di fare per cercare di rispondere alla tua domanda è arrivare al punto vedo che il tempo stringe vabbè perché se no possiamo parlare anche un po' di più anche del bias no ecco quello che volevo dire è che io cerco un po' di rompere la bolla della polarizzazione a me non interessa tanto dire alle persone che sono convinte che i vaccini siano una delle più grandi risorse della medicina come in effetti sono confermarli in questa loro idea perché loro sono già convinti che è così tutto il mondo gli dice che è così va bene meno male a me interessa cercare di seminare il dubbio in quelli che invece sono contrari o rispondere alle paure di chi non di chi appunto ha dei dubbi e quindi in questo modo io cerco come faccio cerco tendenzialmente di ascoltare quando mi fanno una domanda o una provocazione cosa c'è dietro qual è la la falsa idea che può esserci dietro e da cosa può essere provocata cerco sempre di riconoscere se nella nella provocazione nella frase nella domanda c'è un qualcosa di vero e spesso è così perché molte false notizie derivano da qualcosa che un fondo di verità ce l'ha ma poi è stato frainteso è stato ingigantito è tolto dal contesto e quindi io sempre parto dal dire sì hai ragione è vero che questo è così e in questo modo apro un dialogo però attenta perché quest'altro va letto in quest'altro modo mi sembra in questo modo di riuscire un pochino a rompere questo dialogo non sempre a volte arrivano gli insulti arrivano le provocazioni io davanti agli insulti agli atteggiamenti molto violenti semplicemente non rispondo non do adito basta lascio lì poi a un certo punto si stufano non sto quando invece viene detto qualcosa di falso che può trarre in inganno perché io penso sempre che quando c'è uno di queste persone il problema non è tanto lui o lei ma chi legge quindi quando viene detto qualcosa di falso io ribadisco sempre come stanno veramente le cose ma poi davanti agli insulti non rispondo mai bias cognitivi ci sono tantissimi bias cognitivi cioè dei meccanismi mentali che noi abbiamo innati nella nostra mente perché sono stati selezionati proprio durante l'evoluzione per la nostra sopravvivenza che ci fanno per esempio percepire il rischio in maniera diversa in una maniera che non è obiettiva cioè noi oggi stavo parlando proprio oggi facevo delle storie su Instagram stavo parlando del fatto che è stata ritirata la renitidina non so se avete sentito questi farmaci ecco perché contiene perché è stata trovata una sostanza potenzialmente cancerogena in alcuni di questi campioni quindi li stanno verificando tutti molte persone mi scrivono preoccupate spaventate ma questa nitrosammina che è stata trovata dentro in questi farmaci sono le stesse identiche sostanze che si liberano mangiando prosciutto mangiando salame mangiando i fritti quindi noi non ci preoccupiamo di mangiare anche prosciutto un giorno se un giorno no quasi tutti i giorni non lo consideriamo una cosa pericolosa perché? perché è una cosa naturale perché è una cosa che conosciamo da sempre per tutta una serie di meccanismi nostri qui siamo in Veneto l'alcol è un agente sicuramente cancerogeno ma nessuno se lo vuol sentire dire neanch'io perché anche a me piace berlo però dobbiamo sapere le cose come stanno però abbiamo dei nostri meccanismi interni che ci portano a modificare la percezione del rischio in relazione a tutto uno schema di valori di senso di identità di nostre idee nel campo della medicina quello che è forte è anche il senso di identità rispetto alle tribù che diceva Fabiana per cui se io per esempio appartengo a una certa mi sento diciamo inserito in un contesto culturale che per esempio privilegia ciò che è naturale per esempio rifiuta la medicina ufficiale tra virgolette per cui magari mi curo con l'omeopatia allora è più facile che magari sia diffidente nei confronti delle aziende farmaceutiche che producono anche i vaccini e quindi queste cose spesse vanno di pari pass pari passo e quando qualcuno viene a scalfire queste mie idee viene ad affermare qualcosa di contrario mi sento non è che io non so le cose e qualcuno me le dice è che mi sento messo in crisi rispetto alla mia identità ed è questa la ragione per cui certe reazioni sono così violente non so se sì 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 e tra l'altro vorrei fare il punto proprio sul fatto che questi bias sono comuni a tutti assolutamente noi con noi redattori qui in questo momento comprensi che è il motivo per cui abbiamo osservato parlo di me come gruppo di cerca che poi appunto la maniera aggressiva di comunicazione sembra comunque non funzionare e quindi magari un approccio come quello di Roberta potrebbe essere più producente invece Adrian cambiamo usciamo gli argomenti un po' più tristi e tu invece che sei nato come potremmo dire nasci come storico della scienza oggi sei riuscito a fare invece di di Youtube anche una tua professione vera e propria e soprattutto sei riuscito nella nella splendida sei riuscito ad accattivare tantissimi giovani hai tantissimi follower molto molto giovani ed hai creato sei riuscito a coinvolgerli quello che si chiama oggi engagement e sei riuscito a portare tra l'altro questa comunità che è una comunità online poi tu riesci ad incontrarla quindi c'è appunto un passaggio dall'online offline e viceversa quindi raccontaci un po' come fai allora molto è stato partire con una mentalità che avvantaggiava il fatto che avevo l'età giusta per vivere in diretta queste trasformazioni per cui parlavamo già un linguaggio simile molto del pubblico che ho ora in realtà è intorno ai vent'anni per cui il grosso il picco del pubblico è ventenne poi dopo c'è una grossa fascia di adolescenti e poi dopo per qualche ragione c'è un altro picco a 60 anni credo perché parlo di morte e distruzione sono i genitori di questi ragazzi oppure sì 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 è vero però i figli dei gatti i genitori gli adolescenti non hanno tutti i 60 anni non sono questa cosa la sento spesso di come si fa ad attirare i giovani recentemente c'era stato qualche giorno fa una grande simposio non so come si chiamano insomma il raduno di tribù delle varie aziende del Veneto con Confindustria Zai eccetera e tutti avevano chiamato un youtuber un altro grande youtuber che è Breaking Italy che è un canale di circa credo sia un'ora 600.000 qualcosa del genere iscritti e lui parla fa commentari sulla situazione politica quindi spiega la situazione politica italiana e ancora non si è strappato i capelli quindi già quello e l'hanno chiamato solo per chiedergli come si fa noi aziende a coinvolgere i giovani che non hanno voglia di lavorare e lui è stato lì con enorme pazienza a ridirli dovete pagarli e quindi le aziende chiamano sì però se noi volessimo farli lavorare gratis gli diamo una grande opportunità di venire a lavorare per noi e fare un'esperienza è difficile ho cercato di coinvolgerli semplicemente non partendo dal presupposto del voi siete un pubblico particolare siete una nicchia di mercato che io devo cercare di coinvolgere ma cercando di parlare lo stesso linguaggio che alla fine è quello che ci definisce lo riconosciamo nel modo in cui trattiamo in cui vediamo il mondo quello è quello che crea le tribù è la costruzione culturale di quella che è la nostra visione una delle cose che spesso vengono sottovalutate tantissimo nonostante poi dopo tutte le generazioni ce l'hanno sono i meme quindi avete presente cosa sono i meme se andate su internet internet è popolata tantissimo da meme che sono una forma di arte stile street art eccetera solo digitale quindi le persone possono prendere un'immagine metterci sopra una frase o qualcosa che cambia il contesto e comunicare con quello a qualcun altro la propria emozione il proprio vissuto anche se e di nicchia comunque trova un pubblico enorme i meme riescono a decontestualizzare qualcosa e dargli una nuova vita è come se immaginate questo immagina se qualcuno prende dei colori va bene lo so che sembra assurdo e li mette su una tela in un modo che anche se quei colori erano completamente diversi messi insieme in quell'ordine hanno un significato diverso oppure metti mercurio su che non è anche se a chiappe nude ha un significato sono sicuro che ce l'ha qualche significato o quell'altro accanto che sembra abbracciato una baguette quindi questa cosa noi la facciamo da sempre e l'intero intento dell'arte è cambiare significato per comunicare quindi il simbolismo esiste da sempre nonostante questo i meme su internet vengono trattati come una cosa che vale zero e i giovani questa la vedono come un distacco generazionale profondo per cui va bene voi non parlate il nostro linguaggio fine va bene lo parliamo noi quindi questo tipo di mancanza di comunicazione ha fatto sì che quelli delle nuove generazioni non avessero un punto di riferimento che parla al loro modo come tutti i casi come in tutte le forme di comunicazione non significa che tutto quello che trovate sotto il nome di meme allora ha un funzionino o è pregiato però buttare via tutto il linguaggio usato su internet in questo momento in questo modo sarebbe come buttare il bambino con l'acqua sporca quindi e che non è vantaggioso per nessuno quindi questa cosa di buttare il bambino con l'acqua sporca esiste solo in Italia ma devo sempre ridere perché mi immagino il contesto con la madre e per oggi ho finito comunque ho cercato di accapararli appunto parlando lo stesso linguaggio facendo riferimento a cose di cui parlano loro e più che altro di nuovo non trattandoli come se fossero delle versioni mignon di esseri umani e non degli esseri umani completi gli adolescenti sono tanto capaci di ragionare intorno alle cose quanto gli esseri umani che abbiamo di fronte non solo hanno un grosso vantaggio se da una parte manca l'esperienza vissuta dall'altra parte hanno sono molto molto più rigidi nelle proprie convinzioni stanno costruendo attivamente la loro visione del mondo e hanno spesso la capacità di intravedere attraverso strati e strati e strati di cose culturali che per noi sono sedimentate una delle esperienze che vi consiglio tantissimo è di andare a un pubblico di adolescenti spiegargli la vostra visione del mondo e vedere come riescono a passarci attraverso come se neanche esistessero tutte le convinzioni che noi si sedimentano per loro sono invisibili quindi ti chiedono perché fai così e tu gli spieghi no ma perché vedi devo mettermi questo perché tutte queste cose che noi abbiamo vissuto cadono improvvisamente davanti ai loro occhi è già successo le generazioni passate non è di nuovo nulla di nuovo gli anni 60 70 erano pieni di giovani con nuove idee che parlavano linguaggi nuovi e ora noi siamo se non quelli eredi di quelli quindi rischiamo di avere lo stesso problema ma non è obbligatorio questo conflitto generazionale non è che deve per forza succedere può essere anche una cosa produttiva in cui noi parliamo con i giovani non pensando allora voi giovani diteci qual è la parola chiave che dobbiamo dirvi per farvi fare quello che vogliamo ascoltiamo e cerchiamo di imparare nuovi linguaggi tra l'altro però il tuo linguaggio riesce poi ad arrivare anche ai 60 anni quindi probabilmente la bolla la stai bucando sì anche perché alla fine di nuovo non è che le cose che funzionano col pubblico giovanile funzionano solo con loro non è questione di usare solo i meme o altro ci sono molte cose che sono istintive di noi quello che vedete nei meme che funziona e toccano corde classiche cioè se voi leggete ora opere di Shakespeare il motivo per cui fanno ancora riflettere ridere piangere è perché ha toccato delle corde molto umane che esistono Aristofane parlava di cacca per far ridere va bene e tuttora funziona anche migliaia di anni dopo non ci sono quello di cui parlano i giovani che per loro funziona è meraviglioso perché potete vedere cose universali classiche che funzionano al di là degli strati culturali che ci sono in mezzo per cui non è che sono meno intellettuali è che sono meno sedimentati però potete trovare una ricchezza spaventosa di cultura di arte di nuove idee nuovi modi di vedere il mondo e per mia esperienza è una delle cose più belle perché ogni volta che c'è questa prospettiva di imparare cose nuove di mettersi nella mentalità di qualcun altro è meraviglioso che ti dia un modo di vedere il mondo che ti fa sentire tra virgolette giovane perché ti dà l'idea di fare qualcosa di nuovo non l'hai mai visto in questo modo quindi non snobate i giovani perché hanno meno esperienza o meno sedimenti anzi usateli come torce per illuminare il futuro frasi poetiche però funziona trovo esemplare che entrambi abbiate parlato di ascolto quindi probabilmente questa è la parola chiave anche se si comunica che prima forse dovremmo partire ad ascoltare Alberto tu invece nasci come uno scrittore e quindi la domanda che vorrei farti è hai tra l'altro anche la difficoltà Roberta tratta dei temi controversi quindi Adrian ha tutta la sua maniera di trattare tematiche anche affascinanti per alcuni versi tu hai la difficoltà di dover rendere accattivante la storia che spesso non è propriamente una delle tematiche più affascinanti la storia e la cultura e quindi la mia domanda è come fai a trattarli come sei riuscito a trattarli in maniera anche più leggera se possiamo se mi consentite il termine e se e quindi come ti sei adattato da scrittore a questo nuovo mezzo allora ce l'ho fatta perché ce l'ho fatta calma insomma quei libri ce l'ho fatta mettiamola così su quello non ho dubbi ecco nel senso che ho interpretato la storia come Adrian sta interpretando la scienza facendo il giullare con tutto assolutamente il bardo di cui si parlava prima nel senso che ho descritto Venezia ho descritto altre città ho descritto la storia passando attraverso le storie attraverso la leggenda attraverso la ciò che facevo c'è no prima la riscoperta della tradizione orale e tutto nasce in realtà da molto prima che io sia un essere senziente quasi nel senso che io sono originario dell'isola di Murano a Murano 50 anni fa era ancora possibile sentirsi raccontare le storie dagli anziani erano storie bellissime che hanno continuato ad albergare dentro di me per decenni finché non ho iniziato a studiare l'università e all'università quanti più libri leggevo su Venezia tantomeno vi ritrovavo queste storie meravigliose che avevano costellato la mia infanzia e mi chiedevo perché io capisco che se tu parli di Cadolfin tu difficilmente puoi parlare in un libro di storia del fantasma di Cadolfin o della leggenda della dama decapitata e così via però se quella leggenda è sedimentata condivisa addirittura riportata in testi storici magari ottocenteschi o in cronache settecentesche perché non immettere questa scintilla in qualche modo e così mi sono in qualche modo assunto questo compito con grande piacere devo dire di parlare della storia attraverso le storie perché tu ecco io prima parlavamo dei fantasmi di Poveglia addirittura dicendo che a Poveglia non ci sono i fantasmi tu puoi raccontare la storia di Poveglia cosa che ho fatto in quel video e quindi puoi raccontare come nasce civiltà parallela a quella di Venezia comunità molto cara ai doji che addirittura andava a trovare il doji una volta all'anno esentata addirittura dalle tasse e poi diventa monastero e poi diventa sanatorio nel corso degli anni fino a diventare il lazzaretto novissimo e quindi puoi dire che i lazzaretti 1423 il vecchio il 68 il nuovo lazzaretto invenzione veneziana il nome lazzaretto deriva da Venezia Venezia inventa la quarantena a proposito di sanità peraltro e appunto nel 1793 arriva sta nave greca che porta formaggio per inciso anche se è poco interessante forse che ha questi marinai che sono malati Venezia noi ricordiamo due grandi pestilenze 1575 1630 il redentore la salute Venezia viene colpita 69 volte dalla peste nel corso della storia ecco quella è stata la penultima e nel 99 1799 Venezia non è neanche più Venezia l'ultima 20 morti tra l'altro c'è una bellissima pietra nel ciò che rimane del cimitero di Poveglia in cui c'è scritto non scavate qui riposa riposano coloro che furono colpiti dal contagio in vita questa è una cosa molto suggestiva la fai vedere appunto cioè la descrive è una cosa già così no parlante la fai vedere sta pietra tutta storta in mezzo al cimitero dici cazzo ecco e invece poi dici no non ci sono fantasmi però è un'isola che ha una storia straordinaria e quindi ecco che tu puoi raccontare la storia raccontando le storie puoi fare un lavoro sulla memoria appunto e la memoria questa città che perde rapidissimamente memoria la Venezia di mio nonno e di mio padre fate salve le innovazioni tecnologiche la lavatrice la televisione e così via ma sono molto simili tra loro socialmente il tessuto sociale tiene ancora tra me e mio padre c'è una spaccatura c'è una cesura mostruosa che non è dovuta solo alla modernità ma è dovuta ai cambiamenti che insomma non dico nulla di nuovo che in questi ultimi trent'anni almeno sono intervenuti proprio a modificare il tessuto cittadino che ha perduto memoria perdere memoria che è memoria sociale ma è anche memoria dei luoghi e delle storie dei luoghi significa perdere l'identità tu hai una memoria tua personale di ciò che vivi o anche di ciò che ti viene raccontato una memoria familiare per cui con mio fratello rido di alcune cose e poi hai una memoria che si allarga alla tua cerchia di amici una memoria con i tuoi compagni di scuola una memoria di quartiere e così via per ciò che accade per ciò che vivi e tutte queste memorie non sono esattamente concentriche sono tanti cerchi che a volte entram uno nell'altro e così via ecco questo meccanismo che si è disgregato qua a Venezia va un po' ricomposto e io posso fare un lavoro letterario ciò che ho fatto e poi per altri aspetti un lavoro un po' più multimediale laddove riesco per restituire memoria ai luoghi il mio pubblico non difficilmente si spacca e no nel senso che a parte qualcuno perché c'era prima ho visto che tra le immagini scelte ce n'è una con Buffalo Bill davanti nel bacino di San Marco quella è un'immagine vera Buffalo Bill venne venne addirittura due volte e poi c'è il partito di quelli perché no questa cosa il partito di quelli che dice che siccome era il 1907 il campanile è crollato nel 2 e si vede il campanile allora è stato fatto e io gioco su questa cosa nel video sul fatto che appunto Venezia è talmente straordinaria che non metti Buffalo Bill con gli indiani in gondola per taroccare la foto ma ricostruisci il campanile dietro per rifare Venezia e poi invece c'è il partito di quelli che dicono no quella è una foto del 1897 quando è venuta la prima volta purtroppo non abbiamo i negativi e quindi non possiamo verificare questa cosa in questo recupero di memoria sapere cosa si ha davanti cioè prendere consapevolezza del fatto che Venezia intanto è tuttora una città che vive che non chiude la sera che è stata una civiltà che ha dato molto alla storia che ha dato molto alla conoscenza del mondo ha dato molto alla scienza nell'ambito della scienza della medicina dell'arte della letteratura dell'architettura questa cosa che è un po' si è un po' sfrangiata un po' dissolta no ecco è come se noi stessi non avessimo la memoria che questo è stato uno stato ma non è venetismo è proprio amore della verità storica che per più di mille anni si è autogovernato con una elezione che poi viene ripresa dagli americani e dai francesi per dare vita al loro sistema elettorale fra parentesi non sono molto fiero del fatto che Trump che ha preso meno voti di Hillary Clinton è stato eletto con un sistema che ricorda a grandina e quello veneziano però è una verità storica ecco peraltro e chiudo nel senso che serve il lavoro ciò che mi propongo poi non so con quali risultati dovrebbe chiederlo a chi poi mi segue e guarda i video ed è anche il senso del far la fatica di tradurli in tante lingue no serve a a dare un a far capire ecco che la città debba essere conosciuta e fruita in maniera diversa ecco che non ci si può affermare al selfie sul ponte di Rialto o davanti alla basilica di San Marco io da veneziano sono felicissimo che ci esista il selfie oggi perché una volta dovevo fermarmi per fare la foto adesso invece basta che tanto si fotografano loro e quindi no non hai questo problema sono sono molto deluso sono insomma particolarmente scosso dal fatto peraltro che bere lo sprizzo è potenzialmente mortale e e poi sì però è sottinteso così come mi sembra di aver capito che l'uomo è davvero sbarcato sulla luna e che la terra non è piatta questi due sono mi avete inferto due colpi mortali oggi devo dire senti Alberto ma una leggenda su Cadolfina un aneddoto veloce in un minuto ce lo racconto allora non tanto su Cadolfing perché non ne ho trovati su c'è un a proposito poi ultimamente mi occupo di graffiti voglio sapere dove posso il catalogo il ricerco c'è questa cosa curiosa se non posso andare mi cogli veramente impreparato questa è un'improvvisata vado un po' a memoria però anche nella consuetudine veneziana io sto facendo questo lavoro sui graffiti perché la città è una specie di libro aperto che ha scritto un sacco di cose dal 200 fino a poi non mi occupo di 900 anche per non incoraggiare però mi fermo all'800 sono ancora cose interessanti cronache navi ci sono figure umane ci sono date c'è un sacco di roba in giro per la città e questa è una cosa poi una consuetudine storica non solo veneziana basta vedere dei quadri di canaletto canaletto era un fotografo aveva proprio la camera oscura e quindi riprendeva disegnava e poi dipingeva la città che aveva davanti esattamente in tantissimi quadri di canaletto si vedono i graffiti c'è il graffito di una nave sul canal grande enorme una nave enorme ci sono se voi guardate la basilica di San Marco dipinta da canaletto è piena di segni sulle colonne cartigli e anche le procuratie sono tutte disegnate c'era proprio anche una maniera diversa di interpretare le pietre che avevano comunque qualche secolo di meno e quindi quest'idea di mettere un cartiglio di scrivere una frase che riguarda un dolfin riguarda la morte però appunto non mi ricordo di che doge e quindi mi scuso anche con chi è a casa però magari se trovo la discussione aggiungo aggiungo a commento insomma muore muore questo doge e a proposito non so se Roberta è felice ma è della sfiducia verso i medici in generale perché muore questo doge secondo i veneziani per un eccesso di cure e i due medici che erano tutti e due di estrazione nobile erano un tron e un dolfin inducono l'anonimo libellatore a scrivere questo epigramma che se è morto il dose e così che ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male che ha mangiato un dolfin e un ton che era un tron che non è stato troppo buon e questo il cartiglio è stato messo niente meno che sul non si sa se è un cartiglio o un graffito sulla scala dei giganti a Palazzo Lucale al punto che viene riportato oggi non c'è più io l'ho cercato ma non c'è più è probabile che fosse un cartiglio ma viene addirittura riportato dalle cronache ecco la memoria anche che e allora io ecco sono la dimostrazione che come dire io stesso non mi ricordo il nome del doge ma recupero ma sul fatto che attraverso un aneddoto io posso parlare dell'uso di mettere i cartigli dell'uso dei graffiti come forma anche popolare immediata di comunicazione della storia della medicina a Venezia volendo e quindi partendo da un aneddoto peraltro un po' scherzoso ecco si possono si può si può aprire proprio il portone della storia io lo dicevano sono davvero un giullare sotto questo profilo che sta davanti al palazzo sontuoso della storia e dico entrate è bellissimo donne nude sangue delitti e poi ogni tanto qualcuno ci casca entra dentro e si appassiona però inizia a studiare ecco ne basta uno io ho già esaurito il mio compito ciò che mi sono prefisso grazie ok un'ultima domanda che vi faccio è tutti voi siete attivi su diverse piattaforme social noi oggi qui parliamo di youtube ma poi in realtà Roberta per esempio attivissima su instagram anche adrian e anche alberto al suo seguito su facebook quindi la mia domanda è come la vostra strategia comunicativa si adatta se si adatta al canale e se appunto cambia in base alla piattaforma che utilizzate allora sinceramente io ho poca strategia perché non è proprio nella mia natura però sicuramente quando ho incontrato instagram attraverso lo stesso sistema c'è sempre tramite Bressanini che mi ha stressato perché andassi su instagram ho trovato un canale più affine a questa mia mancanza di strategia nel senso che nel mio passaggio da facebook a youtube e da youtube a instagram adesso infatti ho un po' trascurato youtube proprio perché instagram mi dà ancora di più quella possibilità di un dialogo immediato cioè io faccio la storia di pochi secondi immediatamente mi scrivono ma questo allora volevi dire così no volevo dire cosa lo spiego subito mi fanno un'altra domanda mi portano su altre vie diventa veramente uno scambio immediato e quindi io devo dire che in questo periodo privilegio molto instagram anche rispetto a youtube anche se capisco che invece sarebbe importante tornare a youtube perché youtube dà comunque la possibilità di un approfondimento diverso cioè di un tempo di racconto più esteso la possibilità di affrontare un argomento e di lasciarlo lì di più come riferimento anche per il futuro è vero anche su instagram salviamo le storie ma non è esattamente la stessa cosa è sempre una comunicazione molto più immediata molto più facile forse è proprio perché faccio fatica in questo periodo a star dietro ai social che in fondo preferisco instagram ma credo che youtube invece abbia una sua e poi ho un pubblico molto diverso seguendo le statistiche come diceva adrian ho visto che su instagram per esempio come peraltro è tipico ci sono molte più donne e giovani donne quindi a me seguono molte giovani donne su instagram mentre su youtube sono più uomini ecco questo per me è fondamentale nel senso che parlando di vaccini di questi temi molto spesso le donne sono più interessate anche se è sbagliato perché io detesto l'espressione mammine informate penso che entrambi i genitori poi in realtà si occupino dei figli e quando vado in giro a parlare di vaccini vedo che i papà sono spesso molto accaniti e molto impegnati però è vero che comunque rispetto alle donne c'è anche un feeling più immediato e poi è divertente perché loro mi fanno un sacco di complimenti io parlo magari di cose complicate loro mi dicono sì però quella collana com'è bella allora io mi diverto molto però sono tutte piccole cose che contribuiscono a creare l'idea di un rapporto vero ecco diciamo che in questa escalation da facebook a youtube a instagram mi dà l'idea che tutto renda sempre più facile questo rapporto questo senso di fiducia questo scambio immediato tu giustamente hai sottolineato il tema dell'ascolto che credo che sia fondamentale penso che instagram lo aiuti molto ed è sbagliato pensare che instagram sia solo un posto dove si postano piatti o belle fotografie davvero proprio perché forse non è un pubblico direttamente interessato alla scienza io se uno per guardare Piero Angela vuol dire che decide di sintonizzarsi su superquark e guarda superquark su instagram molte persone che ho incontrato io che sono adesso miei follower non avevano un particolare interesse per la scienza per la medicina ma la medicina poi alla fine è qualcosa che riguarda tutti tutti i giorni la salute è qualcosa che riguarda tutti e quindi poi alla fine le persone persone che non sanno di avere questo interesse ascoltando ti scoprono di averlo e quindi si allarga tantissimo anche la platea delle persone che possono usufruire di una conoscenza più documentata più approfondita e quindi anche questa mi sembra una bellissima sfida io allora questa è la terza generazione di social che social comunque aggregatori che vedo per cui già mi sento vecchio quindi tipo la novità di instagram io mi ricordo quando c'erano i forum quindi quando si chattava su mirk e altre cose preistoriche o devi ricordare i trilli quando erano le persone su msn ti mandavano trilli comunque ogni generazione di social tutti più o meno fanno un discorso simile che questa cosa è nuova bisogna imparare come si fa come si gestisce come si addomestica questo nuovo social e poi tempo qualche anno compare uno nuovo per cui ti viene a chiedere vabbè ma è tempo che ho imparato a usare instagram è venuto fuori una nuova piattaforma e poi mi tocca iniziare da zero e infatti non si fa così l'investimento che dovete fare non è tanto su imparare a usare quel social in particolare ma il social ha bisogno di alcune vostre skill in particolare per cui l'investimento non è sul social è su di voi quindi ogni social sfrutta qualcosa di particolare che voi già fate su instagram potete parlare in una maniera diversa che su youtube su facebook potete scrivere post molto più lunghi potete andare più in dettaglio in un video in cui potete usare il linguaggio non verbale mentre magari in scritto no quindi tutto il pacchetto di quello che vi serve c'è già compreso dalla nascita dentro di voi non serve che aggiungete pezzi ad only hardware va bene software va aggiornato però per il resto andate benissimo non vi preoccupate se escono nuovi social che tanto la parte di come si fa a postare si impara veloce preferisco youtube dicevo perché principalmente ha un motore di ricerca integrato fantastico che è quello di google stesso per cui le persone possono andare a cercare i temi che vogliono mentre su instagram su facebook no difficilmente qualcuno che vuole informarsi riguardo a dune su plutone va a cercare dune su plutone su facebook o su instagram quindi c'è solo una memoria a tempo breve sui altri social mentre youtube è come un gigantesco archivio e tant'è che la fascia sotto i 25 anni usa youtube molto di più di google stesso per le ricerche per cui molti ragazzi sotto i 25 anni quando devono cercare che non so come si fa una cosa a casa vogliono riparare qualcosa vanno a cercare su youtube vogliono sapere se un libro è bello vanno a cercare una recensione un film lo stesso vogliono sapere una spiegazione su qualcosa la cercano su youtube non perché non vogliono leggere è perché spesso la parte di lettura è in mezzo a siti che sono difficili da ricercare o siti che sono ancora fatti in maniera vecchissima scritti in maniera vecchia per cui è semplicemente la parte che per loro funziona più velocemente più simile al loro linguaggio anche perché poi dopo quello che comunico quello che miro verso il loro funziona molto su youtube perché posso mischiare sia un linguaggio in cui racconto tante cose complicate ma anche immagini e video insieme quindi vince abbastanza facilmente recentemente abbiamo visto una valanga gigantesca su marte perché stanno cambiando le stagioni ed è fighissimo poter raccontare in diretta poi far vedere mentre io sto raccontando come si muovono queste nubi di polvere che scendono a valle su un cratere di 80 km sulla superficie di marte o su io abbiamo previsto l'esplosione di un vulcano di 200 km in diametro è del vulcano più grande che c'è nel sistema solare e quindi ora siamo tutti puntati ad aspettare che esploda è una luna di io che ha più di 400 vulcani ha un intero oceano sotto la superficie solo di zolfo liquido cioè è pieno il sistema solare di posti che sono meravigliosi per conto suo quindi cerco di sfruttare youtube per mettere insieme tutti gli elementi che possono essere da suoni a musica a immagini e per me ora è il posto migliore che è un po' lo zeitgeist del momento storico quindi racchiude tutto anche con il motore di ricerca non so quanto durerà per cosa succederà in futuro però quello che ho grande speranza per il futuro è che la generazione di divulgatori che stanno nascendo ora stanno crescendo grazie a youtube si stanno formando con delle skill che a prescindere da quello che verrà saranno fondamentali e viste le grandi sfide che abbiamo verso il futuro sono molto fiducioso il mese scorso una delle cose più importanti era il cinquantenario di era quest'anno 1969 2019 50 anni di la lunagia vero tutti pensano a quello era anche sì però era anche 50 anni dal da movimenti di Stonewall e battaglie per i diritti LGBT 50 anni dopo abbiamo un mondo in cui in tanti in Italia per esempio puoi avere non possiamo chiamare i matrimoni perché siamo pallosi come nazioni però puoi fare un'unione in cui a prescindere da quello che hai tra le gambe puoi comunque stare con l'altra persona questo è un traguardo enorme ci abbiamo messo solo 50 anni stupisco di noi sono bravissimi pacca sulla spalla per noi dell'Europa però non è ancora per nulla finito però vedere giovani su youtube ora che si stanno impegnando nel parlarne e ho fatto un'intera live su questo tema sul canale è emozionante ed è bellissimo perché stanno continuando a portare avanti una lotta che dura da decenni e queste cose non continuano solo perché sono belle non è che improvvisamente solo perché abbiamo acquisito dei diritti continueranno ad esserci no è una lotta che deve continuare avete visto tutti immagino il discorso di Greta questo è all'ONU è molto molto in linea con quello dicevo della divisione generazionale dei giovani che vedono che subiranno le conseguenze di quello che noi non siamo riusciti a fermare quindi su youtube questa cosa è fortissima in italia c'è un'intera mini comunità di ragazze di colore che parlano su youtube com'è difficile vivere se sei nero in italia e tutto il razzismo che subiscono il modo in cui non sono rappresentate il fatto che in italia da nessuna parte si riescono a vedere nonostante siano tantissimi in tutto che sono vivono qui studiano qui sono parlano la stessa lingua sì esatto italiani al 100% però nei media nel modo in cui rappresentiamo non ci sono mai e quindi se qualcuno si vede e non è bianco si vede in una fiction italiana o altro per forza il cliché è lo stereotipo loro si vedono non rappresentate nella nazione in cui vivono e ghettizzati culturalmente nonostante siano nati e cresciuti qui esattamente fanno la stessa vita per cui il fatto che youtube offra uno spazio di dibattito attivo tra i giovani è molto bello è molto importante e il fatto che i vecchi media giornali e molti altri tv non se ne accorgono neanche è tipo come se vuoi vedere persone che stanno su una pila di dinamite esploderà ed esploderà molto velocemente perché appena tutti appena arriveranno una massa critica ci sarà un un distacco generazionale pazzesco e appena inizieranno ad avere il potere tra poco perché ora hanno 15-16 anni di cambiare loro editare loro la cultura mi mantengo in salute solo per quel momento quindi attento all'alcol esatto no però è molto entusiasmante è molto bello e credo che a prescindere da quanto uno può pensare di media come youtube eccetera da grandi poteri derivano grandi responsabilità e abbiamo il grande potere di migliorare il futuro grazie a queste media e se noi non lo facciamo sarà colpa nostra dobbiamo migliorare la memoria insomma di salvaguardare la memoria di Zio Ben per chi si ricorda Spiderman grazie Alberto allora io pensavo parlavamo di piattaforme sì sì di cambio allora intanto pensavo che potremmo creare un crossover per cui potremmo mandare 15 o 16 milioni di visitatori potenzialmente giornalieri di Venezia sulla luna di Io quella con lo zolfo liquido potrebbe essere interessante provare io ricordo il Commodore 164 che era più o meno come oggi un orologio di quelli che avevano la stessa memoria ma il primo person nel computer che sia mai stato commercializzato Io c'ero ecco e da lì in poi è stato un crescendo per me troppo nel senso che insomma non sono così veloce ma ho tentato di imparare cerco di affidarmi alla tecnologia non solo quella online nel senso che a prescindere dai libri con i codici QR di cui vi parlavo prima per esempio ci sono delle serate che faccio le faccio ormai da una decina d'anni la prima Notte Bianca di Ca' Foscari che è nel 2011 io sul secondo cortile produsse una serata sul Canal Grande in cui navigammo tutti assieme il Canal Grande che era proiettato in una parete era enorme era ed è tridimensionale e quindi io raccontavo mentre percorrevamo il Canal Grande fruizione molto se vuoi non banale ma piatta della tecnologia ma laddove io posso che poi questo sistema l'ho portato ovunque nel mondo in realtà ma per davvero nel senso che l'ho portato sulla piazza rossa l'ho portato a Pechino l'ho portato a New York ed è bello poter portare Venezia perché ancora tu fai vedere qualcosa di vero e tenti di raccontare una verità ci provi con la tua onestà intellettuale con la tua maniera ma in qualche modo cerchi di trasmettere qualcosa io ho iniziato nel 2015 proprio su YouTube perché appunto pensavo fosse la piattaforma adeguata per me in realtà oggi come accennavo poi all'inizio del nostro incontro pur mantenendo YouTube perché ogni volta che viene ogni settimana viene postato un video e io peraltro devo nominare assolutamente Giovanna Cicogna di Vela che è la mia la faccia nascosta della luna a proposito perché lei mi aiuta molto anche nella percezione nell'uso dei social perché è un po' il suo lavoro e quindi io mi interfaccio molto con lei e quindi lei mi aiuta nell'impostazione nella presentazione nel come postare e devo dire che pur mantenendo ogni settimana l'immissione di un nuovo video su YouTube quest'anno abbiamo aperto questa pagina Facebook che ha lo stesso nome Venezia in un minuto e come vi accennavo prima questa è veramente decollata mentre su YouTube non so per quale motivo no? per se mi raccominciare dalla mia incapacità fino a tutta un'altra serie di motivi questa cosa ha viaggiato bene ha diverse migliaia di visualizzazioni no? ma non è non è mai no? esplosa a livelli planetari su YouTube e su scusate su Facebook invece devo dire dove purmente c'è un pubblico di vecchi così viene detto no? sto un po' scherzando ma questa cosa ha funzionato ha funzionato di più indubbiamente sono su Instagram dove uso un linguaggio diverso evidentemente no? che è fotografico e con dei testi generalmente molto brevi e volta per volta ecco a partire da quel Commodore 164 mi divero poi ecco i primi articoli da giornalista li ho scritti battendo a macchina io credo che non so se ce l'abbiate a casa una macchina per scrivere io no perché l'ho buttata via ma poi siamo passati al computer e i primi computer con cui scrivevo avevano lo schermo verde col cursore rettangolare che pulsava e i floppy da 5 ecco non so se qualcuno di voi sa cosa sia un floppy forse chi fa storia ecco quindi per dire ho attraversamente attraversato tutto e quindi sono anche me lo dico da solo ma sono un po' fiero di me nel senso che in maniera però davvero un po' umile ho cercato di capire quali fossero gli strumenti uso tutto perché tutto va bene youtube mi piace mi va bene perché per esempio se un francese o un tedesco si collegano dal loro browser automaticamente gli compare il video con la loro lingua per me è utilissimo in tal senso poi però appunto come si diceva non è non è il mio mestiere c'è una cosa che faccio in maniera molto attiva di cui mi occupo insomma quasi tutte le settimane ma non è non è il centro delle mie attenzioni e quindi insomma lo ritengo appunto uno strumento è uno strumento tanto per chi mi guarda tanto per me che lo che lo produco chiudo con una facendo uno spoiler che interesserà credo per lo più la parte femminile del pubblico perché prima è stato nominato Piero Angela e io vi annuncio che fra circa un mese Alberto Angela verrà a girare a Venezia ma non vi dico le date e dovete seguirlo su esatto nel senso che oggi è stato un incontro con gli autori qui a Venezia e quindi abbiamo stabilito alcuni passaggi di Alberto qua e là in città ma non vi dirò quali e quindi Alberto Angela fra un mese è qua che gira per le calli preparatevi grazie per lo spoiler allora io lascerei questi ultimi minuti al pubblico proprio perché l'obiettivo di questi eventi è anche di creare una comunicazione tra voi e chi è da quest'altro lato e quindi se avete domande curiosità volete toccare tematiche che non abbiamo affrontato alzate la mano c'è qualcuno con il microfono che verrà a microfonarvi c'è qui grazie a tutti e tre intanto mi colpeva particolarmente l'idea di utilizzare contenuti tipo i meme o tipo citazioni a video film serie foto artisti eccetera nella produzione dei propri contenuti mi chiedevo che effetti pratici abbiano avuto o possano avere in futuro le leggi sulla privacy sul copyright che hanno introdotto da poco in Unione Europea riguardo all'utilizzo di questi contenuti perché magari anche una foto non lo so di un cantante di un attore o quant'altro trovata su internet e spiattellata su un video potrebbe essere fonte di problemi suppongo grazie sì è casino perché nessuno ha stabilito di preciso quale regole verrà valutato e per quali casi per esempio se voi condividete ora una notizia da un giornale qualcuno prende da un giornale online e la pubblica su facebook insieme all'immagine che compare all'anteprima c'è la descrizione sotto cioè il titolo della notizia e le prime tre quattro frasi dell'incipit e secondo la normativa quello sarebbe sarebbe illecito cioè stai rubando un contenuto però facebook lo fa in automatico se facebook non lo fa più per motivi di privacy quindi non si vede che cosa si dovrebbe vedere fino a che punto è un rubare il contenuto non viene specificato quanto è free use a discrezione c'è scritto in maniera molto vaga che per scopi culturali o comunque divulgativi ma quanto effettivamente si sa per i meme l'altro problema è che non c'è un autore conosciuto per cui non sai chi è che ha prodotto quel meme in particolare sono e tipo i graffiti che trovate in giro per le città o Banksy che avete la fortuna di vedere quanto ve lo invidio a Venezia però noi sappiamo chi l'ha creato in questo caso ma di solito per molto tempo è stata una cosa rara quindi non lo so sono spaventato e perplesso anch'io però mi perprime più che altro che l'abbiano fatto tante case produttrici c'erano molte spinte di interessi da case produttrici di film serie tv dischi e non lo so vedremo come cambierà ma mi sa che molte di quelle persone che hanno votato per la legge non sono molto abituate a stare su internet quindi grazie adriano ci sono altre domande lì e poi qui in prima fila a parte suggerire un altro crossover tra Alberto Tosofei e Adrian che potrebbe essere Marti in un minuto volevo chiedere ad Alberto siccome conosco bene i suoi video poi ci sono anche quelli del viaggio alla scoperta adesso c'è molto movimento però sono tutti in italiano tu dicevi appunto che i tuoi vengono sottotitolati e volevo chiederti visto che poi il pubblico di Venezia i turisti sono per la maggior parte stranieri e parlano inglese se avevi mai pensato di produrne in lingua cioè quindi in inglese per esempio e quanta percentuale c'è di se poi sarei potuto verificare di pubblico diciamo straniero allora intanto grazie la percentuale è difficile da stabilire nel senso che poi chiaramente nelle altre lingue no quelli che sono sono sottotitolati tutti non credo che ne produrrò in inglese nel senso che mi sembra onestamente insomma una fatica doppia quando già possono ormai sono sottotitolati anche in italiano se voi vi collegate dal vostro browser italiano vi manda la mia voce ma con i sottotitoli in italiano come normale quindi comunque sono tutti sottotitolati quindi sono completamente fruibili no da inglesi tedeschi francesi e spagnoli poi l'inglese e lo spagnolo per altri aspetti non sono lingue molto diffuse e quindi sono quelle in cui i video vengono in quei casi in cui vengono guardati i sottotitoli vengono fruiti di più cosa produca effettivamente tutto questo movimento non posso dirlo non lo so dire nel senso che è comunque una goccia nel mare rispetto ai milioni di visitatori che davvero vengono a visitare la città se davvero la costruzione dei miei video fosse così incisiva dovrei avere 4-5 milioni di visualizzazioni all'anno almeno per poter dire ecco questa cosa incide in linea di massima il visitatore distratto che è quello che per il maggior numero viene a visitare la città è distratto comunque però non si dispera che viaggiando appunto nel web qua e là gli possa capitare di incappare in qualche video che gli racconti la città chi guarda i miei video e normalmente anche nel caso di persone straniere non nate in Italia quantomeno o visitatori interessati sono persone che o conoscono già Venezia e la vogliono conoscere l'hanno già conosciuta la vogliono conoscere in maniera un po' nuova oppure si affacciano ma e questo è interessante con una disposizione diversa quindi accogliente rispetto al nuovo e alla città e vogliono saperne di più il che non è male chiaramente però parliamo sempre di una in qualche modo di una di una selezione ecco rispetto al novero ripeto annuo dei visitatori rispetto ai libri posso dire che i miei libri che per fortuna insomma vendono vendono parecchio perché poi sono continuamente sugli scaffali e da oramai vent'anni continuano a vendere vendono molto più in inglese e in francese in alcuni casi che non in italiano il che va un po' a detrimento dei lettori italiani però è anche interessante vedere che tra le tante persone che vengono a visitare la città c'è anche chi è interessato a scoprirla per davvero con un occhio diverso e soprattutto anche un po' periferico rispetto alle zone centralissime e universalmente giustamente conosciute della città grazie Alberto c'era una domanda qui in prima finale io sono un assiduo frequentatore di youtube sono quasi dipendente e lo guardo tutti i giorni e ho notato che soprattutto ultimamente girano molti temi che sono quasi politicizzati lungi da me politicizzare tutto il discorso ma vedo affrontare temi come il fair use che appunto è stato discusso in Unione Europea a proposito dello scandalo che c'è stato da poco per esempio con il furto di alcune clip del canale di Human Safari da parte della tv o comunque altri temi che non nascono politicizzati come i diritti civili o appunto i vaccini che vengono ovviamente trattati in tv stanno venendo trattati su youtube come vedete la possibilità di una è difficile da spiegare chiedo scusa di una collaborazione tra televisione e youtube che in questo momento sono rivali una possibile unione per migliorare questo aspetto della comunicazione su questo lascerei rispondere ad adrian io vorrei però dire una cosa cioè per esempio per quanto riguarda i vaccini che appunto il campo di cui mi sono occupata è più io la grande opera di politicizzazione di questo tema che doveva essere esclusivamente scientifico e medico non è avvenuta su youtube ma è avvenuta sui media tradizionali è avvenuta da parte di alcuni protagonisti del dibattito da una parte e da quell'altra e penso che sia stata una cosa assolutamente negativa da tutti i punti di vista il rapporto tra youtube e la tele credo che sia un cavallo di battaglia di adrian e lascio a lui abbiamo la sensazione spesso che internet sia ora comunque media come youtube eccetera i social sia il media che definisce nella nostra epoca ma in realtà non del tutto un pochino sì perché è nuovo e particolare però la maggior parte del media che domina ancora su tutto è la radio che wow cioè ha un secolo da quando c'è neanche tutto internet insieme riesce a fare concorrenza e non hanno neanche gatti e questa è la cosa che mi perplive cioè vabbè comunque la radio perché è riuscita a essere permeabile in tutti i contesti e la sentite dappertutto quindi è molto molto più parte del nostro modo di vivere che cose che sfruttiamo in momenti singoli della giornata ora per quanto riguarda la tv il contesto è stato cioè la novità è stata il modo diverso in cui arriva il segnale fino a voi la televisione ha sfruttato sempre dei canali in cui veniva registrato in studio e poi mandato tramite cavo tramite antenna eccetera fino a voi ma erano delle cose pre-registrate che finivano lì non personalizzate ma mandate per la maggior parte delle persone quindi era almeno di contesti regionali erano per tutti il problema con questo è che non potendole personalizzare ovviamente poi dopo vi beccate la trasmissione che c'è quando c'è fine se non la vedete disperate una replica questo modo di fare era per necessità perché non c'era la possibilità di fare le cose come ora abbiamo fatto con internet nuove piattaforme però lo fanno e lo fanno molto bene pensate a piattaforme di streaming come Netflix o come YouTube e come altri quando Disney lancerà tra poco tra pochi mesi Disney Plus che a solo 7 euro ti offrirà tutti quanti i canali di tutto quello che loro hanno e non solo cartone animati perché stiamo parlando di Disney che ha comprato anche la Universal ha comprato scusate la Fox ha comprato molti mondi dell'entertainment messi insieme e avrà quindi una grossa fetta del pubblico la cosa che succederà è che secondo me il televisore rimane in stanza quindi il dispositivo in sé sarà presente scomparirà la televisione come l'abbiamo interpretato finora e complimenti la generazione che vedrà la fine della tv cambierà di sicuro cambierà perché nel momento in cui la televisione immaginatevi una persona a casa anche voi quando siete sul divano guardate la tv finisce una trasmissione di Alberto Angela scusa su Venezia si rimpicciolisce semplicemente lo schermo quindi l'immagine diventa leggermente più piccola sulla colonna sulla destra il televisore vostro stesso smart vi dice ti è piaciuta questa cosa sulla Rai beh forse ti potrebbe piacere un video su YouTube su Venezia che ha lo stesso tema o una serie tv ambientata a Venezia su Netflix e tu devi solo scegliere la piattaforma dove vederlo fine a quel punto YouTube Netflix e altre piattaforme sono direttamente in competizione con la tv nel televisore stesso e a quel punto il pubblico potendo scegliere in diretta tutto questo mangerà completamente vivo secondo me il panorama delle trasmissioni tv questo abbinato al fatto che l'innovazione televisiva non è particolarmente brillante ora cioè i nuovi format in tv sono o cose copiate all'estero oppure cose rivangate dai anni 90 per nostalgia quindi non so quanto durerà la tv vive ora perché ancora un pubblico che è vivo ma dato che si beve tanto quanto mi pare dicono non si vivrà molto ma con i cambi generazionali secondo me sarà un po' non credo che YouTube sia in YouTube killed tv star sì non credo che YouTube sia direttamente in competizione con la tv quanto YouTube sia di nuovo come diceva lo Zai che a questo momento offre cose che la tv non può fare quindi o la tv cambia e sopravvive nel senso di gli autori presenti ora in tv come Mediaset Raya eccetera o semplicemente se no sarà una bellissima pagina in cui scriveranno libri di storia tra qualche secolo l'età della tv e come daguerottipi e altre cose non è la prima né l'ultima volta che succede per un media piangeremo un pochino ma poi ci ricorderemo della qualità della tv e diremo e vabbè ci sta sì bisogna anche dire che comunque YouTube nasce come una piattaforma che ha dato a tutti la possibilità di intervenire ha dato a te la possibilità di iniziare a creare il tuo programma cosa che la tv prima non ci permetteva palinzesto era deciso da qualcun altro con il social cioè quindi non cambia solo appunto le potenziali del canale sono anche il fatto che il pubblico è diventato parte attiva di questa comunicazione perché può intervenire può dire la propria tra l'altro è proprio c'è l'interattività anche per esempio dal punto di vista di commenti quindi non solo di te che puoi andare lì e fare un video ma la persona mentre tu parli tu fai le dirette e mentre tu sei in diretta puoi comunicare con le persone questo è un vantaggio o comunque è una cosa completamente diversa rispetto a quello che invece avevi con la televisione quindi da un punto di vista per esempio di discorsi politicizzati ti dà comunque quantomeno in linea diciamo potenzialmente dovrebbe garantire più pluralismo no? nel senso che dovrebbe parlo di dovrebbe perché poi abbiamo delle dinamiche di polarizzazione un po' particolari è vero che poi dopo come dicevi dei diritti civili cioè è uno dei temi politici per eccellenza cioè non è che è nato non politicizzato è come il cambiamento climatico altre cose è che anche l'idea politica non sta cambiando e su youtube si vede molto nel modo in cui si sta dibattendo perché polis è nata se ci ricordiamo bene in Grecia in un contesto in cui quelli che venivano da fuori erano barbari da cacciare via io vengo da fuori dalla polis italiana quindi è bello che ora ci sia un mondo post interpretazione la polis come politica come solo quello che è il singolo la singola città tribù eccetera perché viviamo in un mondo post polis e se noi pensiamo di risolvere i problemi del mondo pensando solo a Venezia Venezia ora è influenzata come il cambiamento climatico da quello che decide Trump per quanto riguarda i campi antifossili noi se continuiamo a ragionare in termini di polis non andiamo da nessuna parte perché i problemi che abbiamo sono troppo grandi da risolvere a singola polis quindi sono molto felice di vedere giovani che politicizzano YouTube e tanto meglio se nascono nuovi movimenti e attivismo e lo so che fanno paura e i adolescenti fanno sempre paura però anche a Venezia come in tanti altri posti si è combattuto e si è morti per la democrazia tempi fa ed erano i giovani che erano in prima fila con tutti che dicevano dove finirà il mondo quando non ci sono più aristocratici se fossero qui a sentirci quando hanno fatto questa sala avete altre domande? abbiamo ancora ecco facciamo camminare io volevo solo sapere se esistono delle strategie per apparire per primi tra i risultati di YouTube la ricerca so che le aziende e gli imprenditori occupano molto per usare le strategie per apparire tra i primi risultati di Google per YouTube come funziona? Sì è lo stesso come su Google perché YouTube è parte di Google diciamo che più che altro l'esperienza che hai di vederti nei motori di ricerca o comunque su YouTube dipende dall'utente quindi la mia home page sarà diversa dalla sua per cui dipende molto dall'interesse quindi qualcuno potrebbe vedere video su come si fabbricano calzini perché è molto appassionato ai piedi io no quindi dipende molto dall'interesse perché ora è personalizzato che ha il vantaggio di poter offrire a te che fabbrichi i calzini le cose i video sui calzini solo a chi è interessato scusa non volevo indicare te a casa però ha lo svantaggio che ognuno di noi se ci fate caso vive poi in una bolla in cui ha come feedback quello di cui è interessato e basta le aziende generalmente cercano di collaborare ora invece di pubblicizzare solo direttamente su youtube ma collaborare con l'utente e quindi dire voglio arrivare a video che ha tanto pubblico vedo chi è che ha più pubblico e vado da lui e gli dico c'è un modo in cui possiamo fare una collaborazione quindi magari un produttore o qualcosa di tipico di Venezia può contattarlo e dire guarda ti do l'opportunità di parlare di qualcosa di bello magari viene a vedere la nostra officina eccetera racconti un aneddoto ti facciamo vedere qualcosa e in cambio loro hanno l'esposizione per cui è più questo che fanno le aziende perché quello che il pubblico vuole è il rapporto autentico con il creator con colui che fa il video quindi non tanto la pubblicità perché sennò è tv ma forse la signora voleva dire come fare mettere in rilievo il proprio video allora io non sono molto brava però le cose che mi ha insegnato Dario sono che per esempio bisogna mettere delle parole chiave molto importanti molto ricercate molto comuni nel titolo nella sintesi bisogna mettere dove ci sono per esempio appunto nell'elenco delle parole chiave mettere il maggior numero di parole chiave possibile non so se dico delle cose sbagliate Adria sì fondamentalmente così cercate di fare un video con un titolo che possa essere accattivante e non troppo clickbait per cui comunque sia qualcosa che rende l'idea del video e che attira il pubblico avete i primi 30 secondi un massimo massimo un minuto per rendere interessante il vostro video dargli un motivo per cui deve andare avanti ma è lo stesso che succede con un libro se qualcuno legge un giallo ha le prime pagine per mettere in chiaro qual è il mistero e se dopo il primo capitolo ancora non ti prende magari ci vai avanti per forza però non funziona quindi lo stesso funziona per i video e usare una qualità audio buona perché moltissime persone questo lo vedo dalle statistiche circa più di metà in realtà delle persone specialmente la mattina guardano i video mentre fanno altro per cui accendono il video poi si mettono a fare qualcosa per cui l'audio la qualità è molto importante e cercate di essere sintetici ma non tanto nella durata per forza ma nella quantità di informazioni la densità di informazioni tutte insieme per cui se ne mettete troppo poi dopo alla fine del video nessuno si ricorderà cos'è che volevate dire altre domande c'è anche il ragazzo salve la mia domanda è più per i due divulgatori scientifici la grande scoperta negli ultimi anni sono state le echo chamber quindi queste persone le echo chamber quindi queste persone estremamente polarizzate che si è visto che con molta probabilità se seguono canali scientifici seguiranno molti canali scientifici e se seguono canali di antiscienza comunque bufale seguiranno molti di queste pagine e canali da come vi siete espressi prima mi sembra che l'engagement che cercate è più nella zona grigia che nel mezzo ma nelle persone che sono estremamente polarizzate in questo senso cioè mi viene da dire si può salvarle si può fare qualcosa per raggiungerle o cioè da quel che vedo online c'è molta tendenza di aspettare che col tempo semplicemente scompaiano cioè per l'età per i vari motivi perché per la sua natura persone in questo tipo che hanno dovuto avere il tempo di polarizzarsi hanno una certa età ma è così? ah sì sì rispondi tu che sei la persona ci hanno lavorato direttamente no dato che quelle sono le ricerche nostre sull'eco chamber allora volevo intervenire perché la zona grigia Roberta non mi credo non c'è la zona grigia non c'è cioè ce n'è pochissima se guardiamo i risultati dei nostri studi purtroppo questa zona grigia non c'è noi tendiamo anzi non c'è nemmeno un tempo di polarizzazione nel senso che dopo pochissimi like su una piattaforma tendiamo ad infilarci nella nostra bolla di riferimento quindi purtroppo non è propriamente non è così semplice però quello che stiamo facendo tra l'altro con Roberta lo stiamo facendo insieme è cercare di capire quali modalità di comunicazione quali tecniche per esempio strategie possono consentirci di appianare questa polarizzazione e di cercare di far comunicare gruppi che provengono appunto da bolle diverse per esempio credo sia questo anche quello che cerchi per esempio di fare tu sui vaccini ecco nel campo dei vaccini in particolare io quello che intendo per area grigia intendo chi non si è ancora a posto il problema oppure chi non ha avuto ancora tempo di polarizzarsi perché non tutti necessariamente vanno su io vaccino o sul gruppo i vaccini sono i veleni di Big Pharma quindi uno che ancora non si è posto il problema non è polarizzato uno che ancora non ha sentito qualcosa ma non si è particolarmente interessato non è polarizzato molte persone hanno un dubbio sui vaccini ne hanno due ma non si definirebbero sicuramente antivax e non aderirebbero all'entusiasmo dei vaccini come la cosa salvezza del mondo quindi io credo che ci sia un'area non cioè sui social appena soprattutto su facebook appena entri nel dibattito la polarizzazione è immediata però non so se sbaglio Fabiana nella realtà poi tu trovi molte persone che non sono polarizzate che hanno almeno sul tema specifico dei vaccini io trovo molte persone che dicono io sono favore alla vaccina però mi chiedo è proprio necessario fare il papilloma non sarà pericoloso oppure ma io ho sentito questa cosa questo secondo me esiste non si può negare che esista no 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 però da quello che possiamo osservare perché i dati che abbiamo a disposizione non sono ovviamente tutti e anzi cioè questo è un punto a cui dovremmo prestare attenzione cioè il garantire che i dati possano essere studiati per scopi di ricerca perché come utenti siamo sempre attenti al fatto che i dati debbano essere protetti a scopo di privacy però poi dopo rischiamo di non avere più la maniera di studiarli e di capire quali sono le dinamiche per esempio di diffusione di informazione quindi da quello che osserviamo noi cioè guardando al social a quello che osservo indipendentemente dalla piattaforma quest'area grigia non c'è è ovvio che magari prima di entrare in un argomento magari possiamo provare a lavorarci prima e a questo proposito parlavo l'altro settimana scorsa a Firenze al festival delle riviste dicevo un aspetto importante secondo me anche quando si parla di disinformazione ci si concentra molto sul tema della qualità del distinguere il vero dal falso che su alcune cose è ovvio cioè se gira la notizia che Trump è morto ma abbiamo la prova che in realtà è ancora vivo quello lì o è vero o è falso non è che ci sono tanto da discutere invece ci sono molte notizie che sono in un'area grigia quelle sì nel senso che magari sono delle notizie vere ma presentate in maniera distorta con un titolo che fa pensare ad altro oppure nascondendo una parte della notizia che la ridimensiona in un altro modo allora in tutto questo modo in tutto questo contesto è molto difficile quello che si cerca di fare a volte di mettere il bollino di vero o falso che è quello che tante piattaforme anche stanno pensando di fare o che molte persone invocano questo non è fattibile anche perché non c'è sempre la competenza profonda sarebbe impossibile avere dei comitati di esperti gli stessi esperti sono in disaccordo su tanti aspetti quindi quello che credo che sia più importante rispetto alla qualità e al mettere i bollini di qualità nell'informazione sia la quantità cioè se cinque anni fa sui vaccini tu mettevi vaccini su google e uscivano solo pagine di disinformazione adesso c'è in rete tanta anche buona informazione quindi aumenta la probabilità che escano anche delle notizie buone e quindi io penso che il fatto di intervenire anche sui social anche in contesti dove appunto magari non si è abituati a parlare di scienza come su instagram ma riempire comunque la rete di buoni contenuti fa da concorrenza a quelli diciamo meno affidabili e quindi io penso che anche una strategia quantitativa possa essere utile adesso però ma la professoressa Zollo magari mi boccia perché questo è un mio pensiero no vabbè ma è quello che stiamo cercando di fare cioè invece di stare a focali dato che abbiamo visto che comunque se provi a correggere i bollini non servono a nulla non è possibile metterli perché non si può sempre discernere il vero dal falso e se li mettiamo non funziona e otteniamo un effetto invece di rinforzo per cui le persone continuano a credere perché quei pensieri spesso sono radicati perché poi spesso sono appunto parte costruiscono l'identità di quel gruppo e quindi ci si pone anche sulla difensiva perché attaccare quella mia credenza significa attaccare tutta la comunità in cui io mi identifico e quindi sicuramente come strategia non funziona quello che possiamo fare però è cercare di migliorare la qualità e di migliorare l'informazione tra virgolette buona e lo stiamo facendo noi l'abbiamo fatto per esempio lavorando su tematiche controverse come quello dell'immigrazione in un progetto con il Corriere della Sera lo stiamo facendo dicevo prima con Roberta nel progetto scientifico sulla comunicazione della scienza in cui appunto stiamo cercando di capire qual è la maniera migliore per veicolare la comunicazione scientifica qui oggi abbiamo degli esempi molto positivi ma lo scopo è proprio appunto di cercare di lavorare su quel fronte quindi diamo la possibilità alle persone di avere dell'informazione buona a cui possono rivolgersi e trovando magari la strategia comunicativa più efficace per raggiungerle queste persone dato che alcune di queste strategie finora non hanno funzionato vuoi aggiungere qualcosa? Sì sì volevo super veloce volevo solo dire che una delle cose che nessuno affronta abbastanza in questo senso però perché vabbè non c'entra direttamente con YouTube ma è importante investimenti che mancano tantissimo in Italia per le scuole perché abbiamo i problemi grossi con le generazioni già ora attive però i nuovi che ora arrivano a scuola abbiamo l'occasione di già intervenire prima dei danni purtroppo le scuole sono non abbastanza preparate non hanno i soldi per riuscire a fare iniziative non hanno i soldi per chiamare divulgatori per creare nuovi tipi di lezioni gli insegnanti si ritrovano la mia compagna fa l'insegnante di storia italiano e l'anno scorso ha insegnato una classe in cui erano 37 cioè 37 ragazzi in una sola classe in 45 minuti 50 minuti è un incubo quindi se abbiamo una scuola che è così scarsa nel stare dietro alla preparazione non ha il tempo di affrontare con i ragazzi questi temi e la fiducia verso la scienza o comunque il modo di interpretare i dati nell'arco del loro percorso per cui loro vengono semplicemente vissuti come catena da montaggio prendi il libro impara quello ti faccio due domande anche se magari tu sapevi tanto ma quelle due hai avuto sfiga non le sapevi ciccia prossimo e se facciamo così continuiamo a produrre persone che poi vivranno con questa idea molto vaga strana di che cos'è non solo la scienza ma l'informazione il modo in cui si vivono si nutrono di informazione e gli stessi insegnanti sono sottoposti a così tanto lavoro e stress a scuola che alla fine non hanno il tempo di star dietro a ricerche sull'eco chamber sul modo in cui gli adolescenti cambiano il modo di apprendere quanti insegnanti hanno letto libri dei ultimi 3-4 anni di didattica eppure c'è una rivoluzione nata sui studi di didattica anche in Italia però quando devono farlo con quali soldi e quindi finché non viene preso sul serio questo argomento in Italia non si risolve i problemi ma siamo a mettere pezze e non so quanto si potrà andare avanti così perché a un certo punto dovremmo prendere in carico continuare a dire come potremmo fare meglio engagement come potremmo posare questi giovani a coinvolgerli soldi servono soldi è che è brutto da dire ma alla fine se non risolviamo il problema della scuola poi continuiamo a mettere pezze e francamente voglio invecchiare anche meglio grazie è vero cioè noi in effetti ci stiamo nel nostro piccolo ci stiamo lavorando con le scuole cercando appunto di rendere i ragazzi più consapevoli di cosa sono gli strumenti digitali quali rischi ma anche quali benefici comportano semplicemente di utilizzarli in maniera più consapevole io non credo che serva solo ai ragazzi e ai giovani però dalle scuole noi possiamo partire credo che serva un po' a tutti e quindi non è che sia colpa dei giovani ecco serve un po' a tutte le generazioni però sui giovani noi possiamo lavorare meglio e quindi speriamo che qualcosa serva io ringrazio tutti voi per essere rimasti qui fino all'ultimo minuto anzi anche un qualche minuto di ritardo grazie ai nostri relatori e basta grazie